Sì, sì, siamo soddisfatti per il risultato e per il gioco. Abbiamo avuto questa difficoltà iniziare nel secondo seno perché loro sapevamo che vattene bene, che si spingono tanto con la flow. Abbiamo sopporto lì un po', ma siamo stati calmi. Abbiamo giocato molto bene del muro di difesa e battuta, contenendo le arma principali loro, che erano le due sorelle Martinez, anche l'opposta. Abbiamo fatto sembrare una squadra che non è così forte quando in verità giocano bene e sono una buona squadra. Abbiamo fatto un bel lavoro, dobbiamo tenere i piedi per terra perché manca ancora il ritorno. Con le cani è stato più difficile il ritorno in casa che l'andata, quindi dobbiamo tenere i piedi per terra, essere concentrati e continuare così. Grazie.